In guerra, tra una propaganda e l'altra, non c'è mai verso di capirci qualcosa. Serve un punto di riferimento. Il nostro si chiama Nathalie Tocci. Uno basta che l'ascolti e poi dica il contrario, una garanzia. Grandi notizie, gente e la democrazia appena stata importata! 4 marzo. La nostra Nathalie annuncia che la popolazione civile di Kiev e Kharkiv ha le ore contate. La strategia di Putin a questo punto è la strategia di Krosnir, la strategia di Aleppo, radere al suolo le città. Un mese dopo i russi si ritirano da Kiev senza mai essere ricorsi alle loro armi più devastanti e senza mai aver nemmeno accennato a una campagna di bombardamenti come quelle effettuate dai paladini del mondo libero e democratico a Belgrado o a Baghdad. Poi è stata la volta del tormentone sulla data fatidica del 9 di maggio, la giornata della vittoria. I russi hanno bisogno di un successo militare entro il 9 di maggio. Poi ovviamente il 9 maggio non è successo una sega niente. È una guerra, mica il lancio del nuovo iPhone. Ma il mio preferito comunque è questo. 30 marzo. Lo leggo tutto perché ne vale la pena. La farza sul pagamento dell'energia russa in rubli e il passo indietro che Putin è stato costretto a fare nelle sue telefonate di oggi con Scholz e Draghi segnala che quando siamo fermi sul principio tutta la fragilità della Russia viene alla ribalta. Sapete tutti com'è andata a finire. 17 maggio. Conto in rubli per pagare il gas russo perché lei ne si adegua. Ora, di solito dopo averne infilate tre o quattro di queste dimensioni uno si dà una regolata. Ma che? Nathalie rilancia sempre. Ascoltavo prima quello che diceva Orsini che non ha mai messo piedi in Russia, che non ha amici russi, che non ha colleghi russi. Allora, se non c'è quel tipo di conoscenza, francamente non riesco a capire perché Alessandro Orsini è qui a parlare della guerra in Ucraina. Quindi non possiamo parlare di Napoleone perché lei Napoleone l'ha conosciuto quindi non può parlare di Napoleone. Nathalie non conoscerà Napoleone ma conosce molte altre persone influenti. La sua scalata inizia come consigliera della ministra della difesa Piddina Federica Mogherini che poi seguirà anche in Europa, dove rimarrà anche quando alla Mogherini subentrerà Borrell. Fino a quando alcuni parlamentari non presentano un'interrogazione accusandola di conflitto di interessi. Il conflitto sarebbe con il suo posto nel CDA di Eni, anche se dalle dichiarazioni avventate su gas e rubli non si direbbe. D'altronde ammetterla lì non è stato un comitato scientifico, ma, strano ma vero, il PD. Un regalo che vale 180.000 euro l'anno. L'Eni, d'altronde va detto, finanzia dal 2016 anche l'osservatorio sulla sicurezza internazionale dell'Università della LUIS, fondato proprio da Alessandro Orzini. Ma indovinate un po'? Dopo questa diatriba televisiva, magicamente, hanno deciso di tagliarli fondi. Quella di voler decidere chi deve parlare di cosa, per Nathalie, è proprio un vizio. Un mese fa ha fatto rumore questo suo articolo. Se invitati i propagandisti russi, io non vengo. La propaganda, giustamente, deve essere da un lato solo. Se no, che propaganda è? L'autorevolezza della Tocci deriva dal suo incarico come direttrice dell'Istituto di Affari Internazionali, un'altra nomina politica. Da quando è arrivata lei, va riconosciuto l'Istituto in continua crescita. Se nel 2018 aveva 3,8 milioni di entrate, nel 2019 hanno superato i 5 milioni. A fare la differenza, i contributi da fondazioni ed enti internazionali. E indovinate chi svetta? Ma sempre lui, l'immarcescibile George Soros. Quello che non esiste, che è un'invenzione dell'internazionale rosso-bruna. Un po' come il doppio pesismo della Tocci. Anche le democrazie, gli Stati Uniti in primo, hanno comunque, diciamo, commesso atrocità. Ma c'è una differenza enorme, abissale, tra democrazie e autocrazie che si chiama vergogna. Cioè le democrazie liberali, quando commettono queste atrocità, noi ci indigniamo. Ah beh, se ci indigniamo allora tutto a posto. Se invece a te l'indignazione dei salotti dell'aroma bene, e il mia culpa delle produzioni olivudiane strappalacrime non ti bastano, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. Troverai tutti i link nei commenti e nelle bio. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.